Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! F***! No way. Se vabbè, se ho sbagliato a fare lo streamer dei videogiochi, guys. Ho sbagliato. Ho sbagliato a fare lo streamer dei videogiochi. Ho sbagliato tutto nella vita, raga. Avevo poca vita. Avevo... Cioè... No, aspetta. No, no, vai. Molto bene, molto bene. Riescono ad andare a destra. Belusi, Alex, ancora Vivi, Vincenzo. Molto IQ. Controlla sempre dietro e pressare subito questo muro. Avanti, 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 avanti. Da dietro hanno anche gente. Devono proseguire. 35 Alive cominciano a prendere qualche punto di top 79 dentro. Ma attenzione perché qualcuno sta cominciando a taggare Vincenzo da dietro perché deve assolutamente... Tenere i muri full sprayati. Destroy. Porcaccia miseria. Porcaccia miseria. Io questa già la conosco. Io questa già la conosco. Hanno messo la nuova skin. Ce l'hanno, ce l'hanno. Ed eccola qua, ragazzi. Ma che bella che è. È meravigliosa. No, vabbè, dai. Gli hanno... L'hanno messa così, l'hanno messa così, raga. Io non pensavo che si potesse... Sì, nuova skin spoilerata, ragazzi. Guardalo qua. C'ha le braccia e senza... senza questo pezzo, figa. Giulia 395, 12 mesi. Money! We done! Money talks! Here comes the money! Money, 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 money. Giala, giala, yo! Giala, giala! Chin, chin, bling, bling, so che giala. E sick from the money, e the pochi son, giala! Chin, chin, bling, bling, can't stop it! E sick, giala, giala, can't stay in front, stag it! Snus, lei è pazzo! Snus, doggy. Here comes the money, giala, e exuder soldazzi, exuder soldazzi, exuder soldazzi, nuovo paninazzo intanto. No, ragazzi, io non so. Non può essere una nuova skin. È per forza, è per forza una variante. Scatenata, mi sembra lei. Aloy, secondo me è uguale. Non saprei, sinceramente. Non ho idea. Abbiamo le nuove Tower, ok. Abbiamo le nuove Tower Queste. Wow, 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 piano, piano. Ma che cos'è che mi stanno dicendo? Allora, le nuove Tower Craft. Prendi informazioni da Raz, di Raz, da Tarana. Lara Croft, Rebird Raven, Clack, oppure Cobb. Sottolineatura 01. Ciao, Ryan! Fai una dub, 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 fai una dub. Ma, Ryan! Fai una dub, fai una dub, fai una dub. Se ti piace la matranga, bella, c'era. No, la matranga non mi interessa. Allora, non dica, non dica. Completa sfide comuni oppure rare. Queste sono le sfide che danno le fucilate di punti esperienza. di fit e glyph master razz e in colletto di spire artefacts uc ok ero punti sei punti sei punti game 2 59 0 kill e game 35 dovesimo o a che il sito fa sfiga game 4 42 esimo zero kill game 5 42 bene così o raga grazie cyborg grazie per il settimo mese cosa fa ma non faccia sottolineatura super settimo mese cyborg fa le cose ci sono persone su tiktok che scrivono il suo nome xyunder ma ti rendi conto ma ti rendi conto e a parte gli scherzi è il settimo mese e le faccio tre domande perché si chiama xyuder sì quale è il suo vero nome e può salutare il mio amico zaccaria sì il mio vero nome è xyudemilian mac e saluto il signor zaccaria e ovviamente non è un nome italiano grazie mille tommy thank you merda signore sire non c'è conto azzardare merda ti prego no 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 vi ammazzo tutti vi ammazzo tutti la madre quella grande signorina l'ho vista l'altra sera e la mattina aveva la gonna alzata chissà perché non l'aveva abbassata è meglio che io cambio la modalità altrimenti uno snappo poi viene qua perché non c'è un cazzo un cazzo a fare grazie flash flash matt tv thank you per la 30 thank you per la 30 salgo giù un attimo sotto salgo di uno bello ledit guarda che salgo mi giro sotto attenzione di sopra subito ledit velocissimo metto la scala double ledit ancora ce la faccio ce la faccio ce la faccio dove caspita è andato dove caspita è andato ci sono ci sono ci sono attenzione un attimo attenzione che vado a sistemare ragazzo si va avanti si va avanti di nuovo estrazione per la sedia da gaming a rozzi pick winner vincitore è sì però cazzo prendilo il signor joe cauck 05 avete che lo facevo vedere vedi vedi streamlabs joe cauck as one una sedia gaming a rozzi signor joe cauck per favore atto gli scriva in privato il signor joe cauck è presente attenzione potreste anche voi che state guardando la live avere più shows più shows e non si sa se non risponde vediamo se atto ci ha scritto in privato calmo ci ha scritto in privato atto vediamo se per caso risponde oppure no se è presente in chat direi di contare di nuovo ha risposto e ora applausi grazie arbusti grazie mille il pc lo vedrete io credo che dal 5 e 6 maggio potrete vedere il nuovo pc se va tutto bene buongiorno giuru ps e buongiorno anche a borgo grazie ragazzi per gli abbonamenti abbiamo recuperato però quattro ingranaggi questo ci permette se trovassimo un arco verde di essere frecciati in testa eh vabbè lol ma si va bene tosco ma che cavo fa ma non mi si può abbonare per sei mesi tosco non faccia il losco che già è un po' tosco ma non faccia a a